Ciao ragazzi! Ciao! Oggi io e Alissa siamo super emozionate Sì, moltissimo, ma soprattutto io, solo io Esatto, perché qual è il tuo soprannome? Alissa Anguria e il quinto Coword hanno fatto uno scenario con l'Anguria È vero, l'abbiamo visto qui, guardate Watermelon Wave Club Quindi noi lo dobbiamo prendere per forza E poi, sai io perché l'hanno fatto? Perché ora che è estate, l'Anguria è il frutto più estivo, secondo me Sì, ma l'hai fatto apposta a metterti questo vestitino che ha anche le angurie? Sì Ah sì? No Già sapevi che facevamo questo video? No, in realtà no, però me lo sono messo perché era carino Poi quei calzini che non c'entrano, però vabbè Allora, non perdiamo tempo Mettiamoci qui e prendiamolo, poi guarda c'è anche il regalo alla posta Andiamo a prendere Vabbè, per errore prendiamo prima il regalo Ok Tocca È d'oro Ok, aprilo tu Vado io? Sì Cos'è? Degli ingredienti per fare una torta Ma mi sa che è il decimo compleanno di Tocca Boca Sì Wow, è più grande di te Tocca Boca Beh è vero, perché io scaricavo i giochi di Tocca Boca per Daniel Ma quando era piccolo Comunque guarda un po', questi mi sa che sono ingredienti per fare qualcosa Sì, infatti c'è scritto questo più questo uguale così Cosa? Vediamo Wow Anche con la candelina, accendila Dov'è? Bellissima Allora questa la portiamo nel nostro party Allora tu hai già la maglietta anguria, giusto? Io invece ho la felpa che con questo caldo non va bene Però non mi cambio adesso perché se nel nuovo scenario ci saranno dei vestiti io li prendo da lì Ok, prendiamo la torta e andiamo a prendere lo scenario nuovo Sì Eccolo qui 3,49 euro costa Dai, dai Ok, è pronto Vediamo dove lo costruisce Forse lo costruirà dove ci sono cose più state Eh, anche secondo me No, invece Sì, invece No, non è quello estivo questo Sì, ma ma invece perché guarda Cioè ci sono tutte cose avventurose Ah, è vero Cose delle vacanze c'è qualcosa Ma c'è la scuola, l'università Però c'è questo laghetto effettivamente Guardiamola intanto da fuori Allora, non ho capito che animale dovrebbe essere E che cos'è? Tipo una balena? Perché di solito le balene Ah, ma no È un'anguria È un'anguria Un'anguria balena, non lo so Partiamo dal primo piano È un'anguria che sta spruzzando il suo succo Però è acqua Vabbè Ok, eccoci qua Aspetta, prendiamo noi stesse Prendiamo noi stesse Ora siamo anche corti È vero, ma mi ha cambiato Vabbè Lasciamo perdere Ah, perché forse si è resettato Vabbè, non fa niente Vabbè Meglio così Almeno adesso ci possiamo cambiare con i vestiti Aspetta Ui, mi tuffo già qua Piano No, non mi posso tuffare Piano un attimo Guarda, è anguria Sì Anche la fontana è anguria Ok Però aspetta, devo posare questa torta Altrimenti si bagna Dove la posso mettere? Vediamo Paggiala No, qui c'è il negozio Ho detto piano, mamma No, vabbè Le carte sono angurie Me le prendo io Questa Io la torta La metto qua Non compratela però Alì sei già pronta Per tuffarsi Pure con la pistola d'acqua Ma hai lasciato qualcosa Anche per me? Carino Due pezzi Ok Tieni È proprio È un po' piccolo È un capello Ok Ma è troppo piccolo Non mi riparo da nulla Siamo pronti Ali Questa sarebbe forse La piscina dei neonati Però È quella piccolina Però Ma cos'è questo? Tasto Ah Le espressioni Sì E guarda Uh Ce ne sono altre Sì Ma dopo come faccio a tornare come ero? Come faccio a togliermi le espressioni? Ah Grazie Comunque Guarda Questa Non la voglio Prendo questa Sì infatti anch'io lascio la carta di credito Tanto paghiamo tutto alla fine Un prestito Guarda qui ci dice cosa c'è nei vari piani Allora sotto c'è palestra con la con quella fontana che abbiamo visto Sopra lo scivolo Quello gonfiabile Sopra gli scivoli grandi Sì No vabbè Che bello Però aspetta Esploriamo bene Alessia Perché sai che ci sono sempre dei segreti? Eh lo so lo so Allora Allora Qui c'è la doccia Lì gli spogliatoi E lì il bagno E infatti c'è scritto tutto Guarda La crema Ok metti anche un po' di crema Grazie Mamma ma perché ti stai portando un granchio? Ah Non me ne ho accorto scusa Ti lascio qui Aspetta qui c'è la palestra Uh È vero infatti c'era scritto Allora senti Riprenditi la pistola E io voglio provare Questo peso da 15 kg Aiuto Non ce la faccio Aiuto sto sprofondando Io invece Mi metto il tappetino E inizio a fare yoga Il mio tappetino Io invece vado A questa macchina Che fa i succhi di frutta E come si E come funziona? Ah ci devo mettere la frutta Io faccio Questa è per me invece Ma l'avevo detto io Ma è anguria È solo un'anguria Ok Va bene La prima te la cedo Grazie Che l'hai fatta anche per me Vabbè Ecco fatto Ma si possono anche mischiare Gli ingredienti Vediamo Carota Limone Ananas Ah ok È buonissimo Mamma è buonissimo Non l'ho bevuto ma è buono L'ha bevuto la tua spalla Adesso che ci siamo rifocillate Andiamo un po' a vedere di sopra Aspetta Cos'è? Ma non è finito qua Ah è la sauna E sudiamo Guarda le facce È bollente Ok mettiamolo un po' Basto Mettiamolo meglio Tutto Guarda che si appanna tutto Si forma la nebbia Apriamo le porte Ci vuole un bicchiere d'acqua Mamma Sto sudando Mamma Non bevo io Ecco ora mamma Io no Aspetta io entro nella doccia Pure io mamma È tipo È fredda È doccia ghiacciata Mamma infatti è il punzante della neve Non so se fa molto bene Prima caldarci Poi congelarci Ok guarda Era meglio la sauna Andiamo a vedere il piano di sopra Andiamo Guarda Mi hanno messo pure a me Era un bel po' che non usciva Un scenario nuovo Mamma Siamo arrivati al secondo piano Mamma guarda Guarda Che carina Ma è la piscina per i pet Ma è per i pet Alissa Io cosa sono Un'anguria E un pet Ah effettivamente ci sono anche i bambini Ma come facciamo a farli scivolare? Così? Sì mamma va Guarda Vedi Alta le braccia È vero È vero Vai Vedi Alta le braccia Ma dai viena tu Poverazzo Mamma Devo spostarti da una piccola Aspetta ho visto una cosa Una corda Ci si può rampicare Sì Vediamo Sì Guarda Vai via Mamma Qui è mio Questa secondo me fa le bolle Sì È una bolla di sapone È vero Una sparabolle Non è che questo magari Oh Quello mi sa che è una combinazione Allora andiamo a cercare dove troviamo una combinazione di fiori Qua ci sono Aspetta E cosa fanno quelli Prova Cambia il tipo di goccia Però mamma i gatti non gli piace l'acqua Eh a questi gli piace Va bene Allora Qui c'è una piccola spiaggia Ma secondo me potremmo trovarlo magari anche al terzo piano il codice Perché a volte non li mettono nello stesso piano Ma io ho fatto un castello di sabbia Ok dai andiamo Qui c'è per prendere da mangiare che a noi interessa sempre molto vero Ecco Io mi prendo questo piattino Fa pure il suono Grazie signora Paghiamo tutto dopo Addio Ti ricordo Alissa che noi siamo scappate dalla prigione E ci stanno ancora cercando Hai visto che il fiore può far uscire l'acqua? Eh ok Andiamo sopra Andiamo sopra Terzo piano Mamma no Tu hai portato senso di me Alissa Del trasporto Come hai osato abbandonarmi Cosa? Adesso fammi togliere io che all'inizio non mi interessa Va bene ti perdono Cosa? Troppo carina questa funzione Andiamo a vedere di cui Oh ha gelati Mamma io mi riposo Che bello Lasciugamano anguria Mamma c'è qualcosa che non va in lui Cosa c'è? Un po' strano Ah Non era davvero una ranocchia Ma senti Alissa Ma secondo te Se io a questo gelataio qui Gli chiedo Un gelato alla fragola Come la prende? Questo ha paura Di diventare un gelato E poi c'è il gusto alla fragola Vabbè magari è ciliegia È qui mamma Secondo me di notte è più bello Vediamo Eh sì È vero più bello C'è un pulsante Spremilo Wow Non è un massaggio È la schiuma Sono sparita dietro la schiuma Pure io Aiuto Ma cosa c'è sotto la banana Sotto la banana? C'è qualcosa sotto la banana È vero Un lucchetto mamma È un lucchetto Serve una chiave È un forziere Però mamma Forse fa solo parte di tutto Per non forziere Ti sono solo io E tu no Il trampolino unguria Guarda Sì mamma Guarda un codice Forse Brava Hai trovato il diamante nascosto Sai che c'è sempre Andiamo a vedere per di qua Allora sono dei fiori colorati Quindi deve essere qualcosa Che ricorda dei Uh Uh Perché noi ci distraiamo A vedere Queste cose bellissime Entriamo Ok entriamo Io ho fatto il tunnel più grande Quello lì Faccio io ora Uh Aiuto Eccomi E questo cosa fa? L'idromassaggio forse? Comunque è bellissimo questo scenario Ci sono 3000 cose Ok Alissa Adesso Missione Codice Ok Allora vediamo bene qua Aspetta C'è una cassetta qui La vedi? Sì Prova C'è un tasto Vediamo cosa fa No La palestra segreta di questi piccoletti Che carina Però non ci dà indizi sul codice Secondo me dobbiamo esplorare meglio il secondo piano Sì andiamo ad esplorare meglio Allora esploriamo meglio qua Qui nella sabbia abbiamo guardato bene Spossa un po' di cose Cos'è quello? Cos'è? Una ricetta forse Vediamo No È la combinazione L'abbiamo trovata Alissa Batti il 5 Bravissima Ok Allora aspetta Vabbè Portalo Dove erano i fio No ma erano Sicura che non erano al 2 No erano al 2 proprio Ok Vai Portalo Cosa succederà secondo te? Non lo so Forse Forse è qui Ma scusa Ma sono già messi così Ah no Devi tirare su questo rosa Cosa fa? Aspetta Ah Si è aperto Il costume da sirena È vero Mettiamocelo No cos'è il mio Dove siamo noi? Prendici Che bello Bellissimo Beh Allora secondo me abbiamo scoperto tutti i segreti Sì Però mamma In realtà Io dovrei avere quello verde così È come Verde Poi È vero Sei più Hai più colori giusti Vabbè Ormai me l'hai data a me Comunque ragazzi Abbiamo esplorato Tutto questo nuovo scenario Di Tocca Life World A tema Angurie Estate Sì Era bellissimo Molto bello Ci siamo divertite un sacco Non è stato facile scoprire i segreti Però ce l'abbiamo fatta Sì Quindi Noi per oggi Vi salutiamo E questo video finisce qui Ci vediamo al prossimo video Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti